866 medici negli ultimi due anni che hanno scelto di andare in quescienza non appena raggiunta l'età pensionabile nonostante la possibilità di restare in corsia fino ai 70 anni. 986 dimissioni volontarie ed infermieri, 486 medici di medicina generale in meno, con 1300 aree completamente scoperte. Sono i numeri a fotografare il declino della sanità pubblica veneta, alle prese con carenza di personale e la fuga verso il settore privato. Una situazione contro la quale da tempo si batte il COVESAP, Accordimento Veneto Sanità Pubblica, che sabato scenderà in piazza per la terza volta. Protagonista questa volta sarà Belluno, che ospiterà il corteo che dal piazzale della stazione si snoderà a lungo le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Numerosi gli interventi previsti, è lunga, seppur ancora pranziale, la lista di associazioni, enti e partiti che hanno già dato la loro adesione. Perché Belluno? Lo ha spiegato in conferenza stampa il coordinamento del COVESAP. Abbiamo scelto Belluno perché Belluno è un po' l'esempio classico di questo declino della sanità. Scarso finanziamento, non riconoscimento della specificità montana e quindi soprattutto anche una fuga generalizzata dei medici ospedalieri, dei medici di medicina generale, ma anche degli infermieri professionali. Per il coordinamento a salute pubblica, la nostra provincia è il perfetto paradigma di un declino inesorabile, dovuto non tanto ad una conclamata emergenza. La mancanza di personale è dovuta, per i promotori della manifestazione, a precise e sbagliate scelte programmatiche e ad un insufficiente finanziamento. Chiediamo innanzitutto a livello nazionale un adeguato finanziamento che ad oggi nelle le proposte di legge di bilancio assolutamente sono insufficienti.